Il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, suo Dio, e disse Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i Tuoi flutti e le Tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo, sono scacciato lontano dai Tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il Tuo Santo Tempio. Sono sceso le radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. La mia preghiera è giunta fino a Te, fino al Tuo Santo Tempio. Ma io, con voce di lode, offrirò a Te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Il Signore parlò al pesce, ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Il Signore è giunta fino a Te, fino a Te, fino a te, fino a te, fino a te. Grazie a tutti.